Marco Borgonovo, Isabella Conti, Marco Furforo e Riccardo Molinari chiedo di fare un piccolo cambio di ospiti mentre andiamo avanti Se il sottobanco non ha anche il coraggio di dirle in faccia, me le dica in faccia va bene? Perché lei si sta comportando, non faccia la pratica a lei lei non ha neanche il coraggio, lo dice sottovoce, lo ridica sottovoce Allora stia attento a quello che dice, perché di me, della mia moralità, lei non si mette in manone Ha capito? Ecco, che sia più calmo Dopodiché a rivederci grazie No, ma che succede? Massimo, ma no, Massimo, Massimo, scusami Massimo, ma sta uscendo fur... Ma scusami, parlateci voi per favore Stavamo cambiando puntata, che cosa hai detto? Ha detto Furforo, io non nemmeno sentito Io l'avrei detto se mi faceva parlare, tranquillamente Io penso anche che discutere in questo modo sia demagogico No, gli ho detto che fanno interviste a Salvini Quindi un altro che non la pensa come lui è perché è della Lega Questo è il punto C'è una... Allora, con calma Dopodiché se vogliamo discutere, discutiamo Saluto Furforo e Molina Buona mattinata è molto intensa Vi ringrazio di essere stati con noi Buona domanda Dica Ciriello Grazie mille Grazie mille